I rettori delle dieci università aderenti al progetto Ingenium di cui l'Adannunzio fa parte si sono riuniti nella sala consigliare del rettorato nel campus di Chieti per discutere le strategie future dell'Alleanza e rafforzare la propria posizione in Europa. Ingenium è un progetto promosso e finanziato dalla Commissione europea che ha l'obiettivo di consolidare e istituzionalizzare la cooperazione internazionale tra Atene e in Europa. Attualmente vede coinvolte dieci università europee attive in Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Svezia, Finlandia, Bulgaria, Romania e Grecia. In particolare il progetto mira a promuovere la cooperazione accademica e scientifica tra i suoi membri. In questo caso l'Università d'Annunzio è l'unica italiana. L'obiettivo principale è creare un campus europeo integrato facilitando la mobilità di studenti e personale docente e tecnico amministrativo e il rettore dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara di Borio Stupia. Un incontro tra dieci rettori di dieci università. Sì esattamente questo gruppo, questa alleanza di università ne comprende dieci di tutta Europa ed è anche un modo molto interessante per mettere insieme delle culture diverse. Ogni università ha una sua storia diversa, un suo diverso modo di organizzare i corsi e quindi in ogni caso è una prospettiva verso il futuro che proietta l'Annunzio decisamente a livello internazionale. Ne sono molto contento. Una firma che è ben più di una firma dunque? Sì assolutamente si suggella una nuova era perché incomincieremo a vedere ancora più studenti stranieri frequentare le nostre università e vorremmo anche diventare molto attrattivi per delle zone dell'Europa, penso ai Balcani che dovrebbero vedere in noi una destinazione quasi immediata anche per il vantaggio del rapporto costo-beneficio della nostra regione. Si tratta di un momento di grande importanza per il nostro Ateneo e per la nostra regione, spiega il professor Marcello Costantini, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica nonché responsabile del progetto Ingenium per l'Annunzio. Ingenium prosegue e rappresenta infatti un volano che consente di offrire un'alta formazione a livello europeo rafforzando i legami con il territorio e con le imprese presenti nei paesi dell'Unione Europea.